buonasera amici pistogliesi ho comprato siccome ho comprato la casa calamecca ieri ero sulla sala a bere un birrino se ho detto sai che fu e ho detto lo sai che fu e voglio comprare la pistogliese osso ma lo sai che cosa mi importa una sega a me cosa e compro la pistogliese osso lo sai che lo sai che fu ora e chiamo cucini osso e senti che mi dice meglio di lui sicché lo chiamo mi fa oh vieni qui siamo a bologna gli era bello ebriaco se lo dico io se gli era bello bevuto di vino sicché gli voglio guarda lascia fare lascia fare tutto pronto ho detto nulla un tuo chiamato e sicché allora niente nuovi acquisti per il nuovo anno ho preso dei giocatori veramente bravi dei grandissimi campioni i meglio di mondo sono allora come attaccante si è preso un mastino napoletano un doverman e tre rottweiler tu vedrai che culo gli si fa poi si è preso passeggero tobbiana e tobbianella in porta si è preso abetone un grande un ragazzo un po freddo però è bravo un porta gli hanno tutti i ragazzi comunque cresciuti a carcerate confetti non so se mi spiego questa e le gente gli hanno il sangue arancione osso gli hanno l'osso arancione osso noi sangue l'ossa in melani sarà uno stadio fatto a cinque anelli tanto pago io mi porto una sega cio miliardi e l'asa bianca pago io e voi non mi rifate il giardino potrai le piante e mi ricorda ancora quando andeo ai pistoli a blus sulla sala sarà stato il 94 96 c'è il campeggio ancora alla parte vecchia dalla parte il parco della rana se non mi sbaglio c'è di blues delle cignate osso a suonare i giambi sulla sala che tempi osso ma che scherzi osso e allora voglio dire una cosa ora che sono il nuovo presidente e la fistoiese io voglio che si va tutti a mangiare un carcerato assieme osso e un bel e poi domina ci si vede tutta i melani che ne pensai ciao ciao